Ciao, sono Marta Zogoli, ho appena finito la prima e a questo Natale mi hanno detto di fare l'albero e l'ho fatto, ho fatto l'albero, qua c'è il tronco, qua c'è l'albero e manca una cosa qua in punta ma la ho intendo. Vuoi dire qualcosa, albero? Sì, sono Gianluca De Angelis e l'albero mi trovo bene. Buon Natale. Eh, buon Natale, sì.